Il Dipartimento della Protezione Civile è da sempre proiettato verso i bisogni di chi è affetto da disabilità e attraverso un gruppo di lavoro, progetto Abili a Proteggere, ha rivisto tutte quante le pianificazioni operative, le proprie procedure per consentire di considerare nell'attività di previsione e prevenzione nella gestione dell'emergenza e quelli che sono i bisogni delle persone diversamente abili. In questa scia voglio ricordare che abbiamo attivato anche un percorso per i non udenti per accedere al nostro contact center. Mi vengono in mente quei momenti in cui nel primo periodo del lockdown tenevo le mie conferenze stampa quotidiane e in particolar modo ad un giorno nel quale un giornalista mi rivolse la fatidica domanda e cosa fa la protezione civile per il mondo della disabilità. Ebbe in modo di spiegare che la protezione civile con i propri volontari è vicino a chi soffre e in modo particolare chi è diversamente abile. Rispondendo a quella domanda ho avuto la fortuna di incontrare due amici. Il primo è l'ex ministro Antonio Guidi che ritrovai la settimana dopo seduto in conferenza stampa e con il quale interagimmo su quella che era l'attività che la protezione civile portava avanti a favore delle persone affette da disabilità. E poi una importante conoscenza per me scoperta è il mio amico Elio, padre di un ragazzo portatore di handicap che si rivolse a me per esprimere tutto il disagio che le famiglie con portatori di handicap avevano durante il periodo del lockdown. Voglio concludere rivolgendo a voi tutti quanti un caro saluto e rassicurarvi che la protezione civile è al fianco di tutti e in particolar modo da chi ha bisogno e quindi anche da chi è affetto da disabilità.